In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli una parabola. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Sono gli ultimi due giorni dell'anno liturgico. Domenica comincia l'Avvento. Vorrei quindi approfittare per due semplici catechesi sui misteri ultimi, misteri escatologici. Comincerei dal Purgatorio, certamente il più complesso, in realtà non riconosciuta da tutte le chiese cristiane. Mi farei allora aiutare da un professore emerito, Cardinal Spivlich, salito in cielo pochi anni fa. Ultimo punto, ancora non avete tossito. Quando è lungo cominciate a tossire. Voi sapete che i ortodossi e i potestanti negano il Purgatorio. Dicono, non assendo questo Purgatorio né in questa immagine della salvezza. Ciò che li turba questa immagine. Io arrivo davanti a Dio e Dio dice, ah, tu hai parlato male del tuo superiore, tu hai dormito durante la meditazione, tu hai, dunque, tre mesi nel campo di concentramento e poi tornerai, no? Questo evidentemente turba tutti. Questa immagine turba tutti, no? Allora, cominciamo con l'immagine che è tipicamente biblica. L'immagine tipicamente biblica è passaggio. La morte si chiama transitus, exodus, attraverso dall'Egitto fino a Terra Santa, no? E la morte si chiama transitus. La morte sta in un solo momento o che cos'è la morte? Che cosa ne sappiamo? La morte, di fatti, comincia già quando sono nato. E quando tutti credono che sono morto, sono già veramente morto. Chi lo sa tutto? È un passaggio da questa vita all'altra. E le biografie dei santi ci assicurano che i santi, transito dei santi, è breve e glorioso. Transito dei peccatori è doloroso, ma purificante. Questo transito, questo passaggio, e possono essere aiutati con le preghiere della Chiesa, in questo passaggio, no? Questo ammette la Chiesa orientale, occidentale, protestantese. Quanto tempo dura questo passaggio? Questo è puramente simbolico. Trent'anni, quarant'anni, cent'anni. Questo è puramente... Alla regolazione, queste sono puramente cose simboliche. L'unico tempo che si può applicare è il tempo simbolico, cioè il tempo psicologico. Perché quando si soffre, il tempo sembra lungo, no? Allora, quando uno soffre molto, il tempo sembra lungo, no? Sembra lungo. Una volta ho letto il ricordo di uno che andava con il suo amico a passeggio e l'amico non prendeva orologio perché aveva grande senso per il tempo. Diceva, sono tre e più o meno sono tre. Sono quattro, sono andato, no? E sono andati nel bosco, faceva caldo e si sono sdraiati sotto l'albero. E quell'altro andato così sveglia. Qualche cosa qui. E la signorina vipera. Ora sapeva, non devo muovermi. Se mi muovo può succedere qualche cosa. Dunque tenuto duro. E la vipera tranquillamente passeggiava, ammuffiava il naso, ammuffiava qui e poi tranquillamente andava, no? Dunque lui si è alzato, non era così tranquillo, va da quell'albero e dice andiamo a casa. E lì dice, beh, no ancora, no, è troppo presto. No, sono già le sei. Erano tre. Dunque, sembra lungo. Beh, se diciamo purgatorio dura, lungo, questa è una cosa simbolica. E sapete come vedono purgatorio? Più o meno nei stati mistici. Le anime mistiche che sembravano che vanno in cielo, che sono già con Dio, erano estremamente beati, ma sentiva ancora qualche cosa mi trattiene qui. E dice, questo è così doloroso. Vedere che sono già vicino di Dio è ancora qualche cosa mi trattiene. Questo è un dolore, 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 ma è un dolore dolce. E Dante immagina purgatorio come un montagna, che all'inizio è molto ripida e poi è lenta, lenta e si vicina. È interessante che mi sono messo d'accordo sia con i ortodossi, sia con i protestanti. E Dante immagina purgatorio come un montagna, che all'inizio è un dolore. E Dante immagina purgatorio come un montagna, che all'inizio è un dolore.